Forcella, un quartiere tanto ricco di storia quanto bisognoso di riscatto. Riscoprire il patrimonio nascosto della città attraverso un itinerario storico, artistico e culturale è l'obiettivo del Forcella Tour, iniziativa promossa dal Comune di Napoli nell'ambito del progetto Garanzia Giovani Napoli Museo Aperto. Oggi inauguriamo il primo tour, che abbiamo chiamato Forcella Tour, che prevede un tour in tre chiese di Forcella appunto, Santa Egiziaca a Forcella, quindi il tour parte da Corso Umberto, appunto Santa Crippina a Forcella, finisce poi a San Giorgio Maggiore, Angolo Via Duomo. I giovani tirocinanti abbracciano la secolare cultura partenopea e la condividono con turisti e cittadini e il percorso sarà presto arricchito con l'apertura al pubblico di nuove chiese nel centro storico. Credo sia molto importante far conoscere le chiese, ma anche Forcella, che molto spesso è dipinta come un quartiere sì difficile, ma che in realtà ha anche altro, ha anche molto da vedere, il patrimonio c'è, va scoperto e va valorizzato. L'esperienza sicuramente positiva, un'ottima idea che fa bene sicuramente alla città e al turismo, fa bene comunque a tutti questi ragazzi come me che stanno prendendo parte comunque a questo progetto. Quindi vi aspettiamo, siamo a Forcella, veniteci a trovare!